E' stato ritrovato il corpo del ragazzo scomparso da casa da tre giorni nel pomeriggio di ieri dalla polizia ferroviaria lungo i binari della stazione di Scalea. Il giovane Mattia D'In Gianni potrebbe essere stato travolto ed ucciso da un treno. Gli agenti della Polfer, arrivati sul posto dopo una segnalazione ad RFI, non hanno trovato addosso al cadavere alcun documento e all'inizio avevano ritenuto potesse trattarsi di uno straniero. Ma dopo aver incrociato i dati raccolti sul luogo della tragedia, con le informazioni in possesso dei carabinieri della stazione locale della cittadina Cosentina, dove abitava la vittima, si è risaliti alla sua identità. Le ricerche del giovane erano partite da subito, non appena i genitori di D'In Gianni avevano pubblicato sui social la notizia della sua scomparsa, in cerca di una qualsiasi informazione utile per poterlo rintracciare. Il suo corpo senza vita, con indosso una tuta di colore nero, era proprio riverso ad un lato della linea ferrata, a pochi chilometri dalla stazione di Scalea, nei pressi di alcuni campi di calcio. Gli investigatori presumono che l'investimento di D'In Gianni possa essere avvenuto già da qualche giorno, forse e probabilmente proprio dal momento in cui era scomparso, e di lui non si erano avute più notizie. Il cadavere è stato recuperato nella tarda serata di venerdì da un servizio funebre e trasferito nella sala mortuaria in attesa di ulteriori disposizioni.